Non do la parola per terminare questo incontro a un rettore come avremmo lì, il rettore di Catania, vedo, o dei professori, perché anche noi abbiamo dei rettori, dei professori, non è che ce ne hanno solo gli altri, ma lo do a Simona, vieni e concludi tu questa nostra assemblea, perché, scusa, vorrei dirti che in questo passaggio di testimone non prenderla troppo letteralmente, perché sono ancora molto giovane per la pensione, è stata aumentata l'età pensionistica, abbiamo resistito a tutto, non abbiamo piegato la schiena, Monti non ha cambiato idea, è rimasto della stessa idea e si è assunto la responsabilità di passare da una posizione testimoniale a una posizione concreta di impegno in prima persona. Ho visto che Bersani ogni giorno vuole che io faccia una foto di insieme con Monti, ma noi stiamo seguendo, ma noi non abbiamo mica nessuna difficoltà a parlare delle nostre foto con Bersani, lui si accontenta della foto con Vendola, poi la politica di Vendola è l'opposto della sua, però hanno fatto la foto assieme e sono contenti così. Noi la foto non ce la facciamo perché la politica nostra è identica e lo abbiamo visto in Parlamento in questo anno, ma sappiamo che stiamo facendo due campagne elettorali parallele, marciamo divisi per colpire uniti. Questa è la dimostrazione di quanto siamo uniti, cari amici. Non abbiamo bisogno di foto, se Bersani ha problemi gli basta questa foto, datela a Bersani così saremo tutti contenti. Noi abbiamo fatto il rinnovamento in questa lista, non abbiamo alcuno che sia in deroga a quelli che sono stati i criteri di bondi molto più pesanti delle altre liste, poi se le nostre facce non piacciono, se io ho caratteri somatici del delinquente, benissimo, non mi si voti, ma possono essere solo caratteri somatici, non può essere la fedina penale. Allora noi siamo un partito pulito, rinnovato, con presenza femminile non sufficiente, questa è l'unica cosa che dobbiamo ancora accettare, delle critiche che ci rivolgono perché dobbiamo rafforzare la presenza femminile soprattutto nella zona di test.